Ciao a tutti ragazzi, sono Vincenzo e benvenuti in questo nuovo video. Video speciale dedicato all'anime Pokémon. Se ne volete altre e vi piacciono, mi raccomando di lasciare un mi piace ed un commento per dimostrarci supporto. In uno degli ultimi episodi della serie animata Pokémon, siamo finalmente giunti ad un momento molto atteso dai fan. Il nostro Ash Ketchum ha infatti dichiarato quale sarà il suo prossimo obiettivo. Vi dico finalmente perché dopo aver vinto la Lega Pokémon di Alola ed aver iniziato questo giro del mondo come assistente del professor Sakuragi, il nostro Ash non sembrava avere un vero e proprio obiettivo in questa serie. Lo vediamo lì, insieme a Go che cattura Pokémon come se non ci fosse un domani per completare il Pokédex, con il solito sogno di diventare un maestro Pokémon, che ancora oggi rimane una cosa sconosciuta. Cosa vuol dire diventare maestro di Pokémon? Nessuno lo sa, ma di questo ne parleremo in altre occasioni. La cosa sicura è che essere campioni di una Lega Pokémon non equivale a diventare maestro di Pokémon, soprattutto se sei il campione di una regione che la Lega Pokémon prima del tuo arrivo nemmeno esisteva. Ma adesso le cose cominciano ad avere una strada più definita. Siamo infatti venuti a conoscenza del Pokémon World Championships, un torneo dove viene stabilito l'allenatore più forte al mondo. Un torneo che a quanto pare tutti conoscono, anche Go che normalmente non lotta mai, tranne Ash, perché di buchi di trama non possiamo farne a meno, ma ehi, è un cartone animato. In ogni caso, Ash e Go sono volati nella regione di Galar ed hanno assistito alla finale di questo torneo tra Lens, Super 4 della regione di Kanto, e il signor Champion Time Dundle, campione di Galar. Vedendolo in azione, Ash ha avuto quasi il bisogno fisico di dover sfidare il campione Dundle, e a spiegargli come fare ci ha pensato proprio Go. Il Pokémon World Championships prevede infatti un sistema di classificazione, o se preferite rankings, simile a quello della torrellotta di Pokémon Spada e Scudo. Tutti i nuovi iscritti a questo torneo entrano a far parte della classe normale, una classe dove vi ritroviamo gli allenatori che occupano le posizioni dalla numero 1000 a scendere. In base al numero di vittorie ottenute contro gli altri allenatori di una stessa classe, si possono scalare le varie classi. Abbiamo la classe Mega, se si rientra tra la posizione numero 999 e la numero 100, la classe Ultra dalla posizione 99 alla 9, e la classe Master dalla posizione numero 8 alla prima posizione. I primi 8 allenatori di questo sistema si sfideranno tra di loro ad ogni stagione per poter vincere la possibilità di sfidare il campione di turno. Ed Ash, al termine dell'episodio numero 13, ha proprio deciso di accettare questa sfida, ovvero diventare il migliore allenatore di Pokémon del mondo. Ma sono sicuro che neanche questo, nel caso Ash dovesse realmente riuscirci, potrà bastare per essere diventato maestro di Pokémon, ma come vi ho già detto ne parleremo in un altro video. Certo è che se Ash dovesse davvero vincere il titolo di migliore allenatore di Pokémon del mondo, a 10 anni, risulterebbe difficile pensare ad un titolo ancora più prestigioso di questo. Ma nel frattempo è normale che gli sceneggiatori vadano ad allontanare il ragazzo di Biancavilla da quelle che erano le solite lotte in palestra. Aspetto di leggere i vostri commenti qui sotto per sapere cosa ne pensate, e qui da Vincenzo per oggi è tutto, ciao allenatori! Ciao! 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 Grazie a tutti.